Questa volta, vabbè, è un dispiacere per me lasciare l'Italia, però penso che sia un'ottima occasione e possibilità per il mio futuro. Che tipo di situazione andrai a trovare in Svezia? Intanto per chi hai firmato, firma del contratto che è arrivata da pochissime ore. È un po' difficile da pronunciare, si chiama X Luna United, è una squadra che si trova a Stoccolma. Che tipo di ambizioni hanno questi svedesi e soprattutto come ti hanno convinto ad andare a giocare in Svezia? Le ambizioni sicuramente sono molto alte. Io ho parlato con l'allenatore e con il presidente che in due anni vorrebbero arrivare a partecipare in Champions League. Mi hanno convinto proprio per il progetto che hanno a medio e lungo termine. Calcio svedese che ha una tradizione comunque già abbastanza forte con una competitività molto alta in Europa. Sì, il campionato svedese penso che dopo il campionato tedesco sia il migliore al mondo. Penso che sia il secondo campionato migliore al mondo. E possiamo anche vedere che il Tireso, la squadra dove milita Veronica Bocchette, Marta e tante altre stelle del calcio femminile, che stanno ancora lottando per vincere la Champions League. Tra l'altro scelta, possiamo dire, anche abbastanza complicata. Fino all'ultimo, visto che si reduce da una settimana in Inghilterra, hai dovuto anche valutare più di un'offerta. Sì, sono stata a Nottingham, in Not County, dove sono stata benissimo. È stata una settimana molto bella, un'esperienza unica direi, però non c'erano i presupposti per continuare con questa squadra. Piccola soddisfazione però per l'Italia nei mondiali Under-17 in Costa Rica. C'è stata una qualificazione storica ai quarti di finale, però ancora la differenza è tanta. Sì, io conosco Rita Guarino e Enrico Sbardella, che sono i primi e i secondi allenatori, e tanti giovani. Penso che stiano portando in alto la bandiera italiana e gli faccio un grosso in bocca al lupo per giovedì. Il lavoro che hanno svolto è sicuramente un ottimo lavoro. Spero che l'Italia si renda conto che in futuro il calcio femminile dovrà essere il primo sport in Italia. Ci salutiamo così con Pamela Conti, che diventa ambasciatrice palermitana in Svezia, in bocca al lupo, e ovviamente dedica a Rosa e Nero al primo gol in Svezia. Ce la devi? Mi metterò una maglia sotto, la prima munizione sarà quella. Mi metterò in Svezia. Grazie.